Siamo nati ambiziosi e cresciuti con la voglia di arrivare lontano. Abbiamo sempre avuto le maniche rimboccate e le mani occupate con attrezzi e matite, i gomiti appoggiati sul tavolo da lavoro e la luce accesa anche a ore impensabili della notte. Siamo sempre stati dalla parte della perfezione, convinti che qualità, precisione e riconoscimenti non vengono per caso, ma sono il frutto di impegno e ricerca. Con metodo e rigore siamo diventati un punto di riferimento, sia nella lavorazione meccanica per conto terzi, sia nella progettazione di portoutensili statici e motorizzati, destinati a turni a controllo numerico. Grazie alla lunga esperienza del nostro reparto tecnico e all'impiego di strumenti e tecnologie innovative, realizziamo più di 500 nuovi prodotti all'anno. Tutto inizia dal disegno 3D, il primo vero momento in cui mettiamo all'opera la nostra precisione. Le simulazioni, i test al computer e i rigorosi controlli e collaudi ci consentono di ottenere un alto livello di affidabilità e mantenere altissimi standard in tutte le fasi successive, dalla produzione all'assemblaggio fino alla spedizione. In 5 giorni lavorativi consegniamo in tutto il mondo, affiancando i nostri clienti con i servizi di post vendita e customer satisfaction, dimostrando come la qualità del Made in Italy si riconosca in ogni fase di lavoro, dall'idea alla realizzazione, dalla consegna all'assistenza. Ma non finisce qui. Se siamo riusciti a fare così tanta strada, è anche grazie alla nostra officina interna, dove produciamo il 95% del prodotto e che ci permette di realizzare soluzioni personalizzate e fuori catalogo, incrementando così la versatilità della nostra offerta. Non solo. Abbiamo creato prodotti che prima non esistevano. Di questo ci fa sentire un po' inventori e un po' pionieri del nostro mercato. Lo sguardo rivolto al futuro ci ha portato inoltre all'integrazione con l'industria 4.0, anticipando di anni questa nuova frontiera piena di tecnologie e opportunità. L'aggiornamento e le specializzazioni giocano un ruolo fondamentale nel nostro mestiere. ti garantiscono soprattutto le elevate performance del nostro team di lavoro, sempre affiatato e pronto a mettersi in gioco. La voglia di arrivare lontano non si è mai spenta. Ci sono ancora tanti progetti da realizzare e tecnologie da scoprire. E noi siamo pronti, sempre con le maniche rimboccate, pronti ad affrontare nuove sfide. M.M.T. Tailored to perfection.